E' durissimo lo scontro all'interno dell'IDV di Nuoro tra l'assessore comunale Tore Sulas e il presidente del Consiglio Gianni Salis e il consigliere comunale Cosimo Sud. Stamattina l'esponente della Giunta Bianchi ha convocato una conferenza stampa e ha consegnato al giornalista un documento in cui accusa i due esponenti del suo partito di volerlo far escludere dalla Giunta e di aver chiesto questo proprio al primo cittadino. Una richiesta che ha sottolineato Sulas e non tiene conto del fatto che alle elezioni, nonostante fosse un outsider, è stato il più votato dell'IDV con 530 voti e il terzo più votato del centro-sinistra, che per disciplina di partito ha dato la disponibilità a diventare assessore per consentire la surroga in consiglio comunale di Cosimo Sud. In questi anni di assessorato purtroppo mai mi è stata data la possibilità di svolgere il mio ruolo istituzionale con serenità, lottando sempre contro tutto e tutti, scrive Sulas. L'ostinatezza che mi caratterizza è stata però lo sprone per presentare la mia candidatura a segretario del partito in città. La scelta verso la mia persona, democraticamente espressa in un regolare congresso, rileva il coordinatore cittadino dell'IDV, è stata mal digerita dai dirigenti locali e regionali, tanto che Palomba accusa Sulas e non ha mai comunicato alle sedi nazionali l'esistenza di un coordinamento cittadino di Nuoro, cosa che invece non è avvenuta per il ruolo di coordinatore provinciale in carico ricoperto da Gianni Salis. L'assessore Sulas rivela di aver scoperto che un importante numero di iscritti all'IDV in città e tra i quali gli stessi non sono stati neppure iscritti al partito, pur avendo versato la regolare quota di iscrizione alla segreteria. Di conseguenza gli iscritti nuoresi all'IDV non hanno potuto partecipare al congresso nazionale. Per Sulas si tratta di gravissime negligenze di cui chiede conto al segretario Palomba. Adesso Soddu Salis, Lai e Palomba, andando contro il volere del coordinamento cittadino, scrive Sulas, hanno chiesto al sindaco di togliermi la delega, comunicandogli che a breve avrebbero dato il nome del nuovo assessore. A cosa serve votare? Si chiede Sulas. Perché scegliere un candidato se poi il partito non lo gradisce e si applica a tempo pieno per rimuoverlo? Sulas ricorda a chi vuole rimuoverlo che forse, anziché avere un giovane assessore come continuo bersaglio, avrebbero fatto meglio a pensare a come far rinascere il partito dagli scandali che l'hanno visto protagonista e soprattutto a lavorare per la nostra città.